eccoci ragazzi vedete è l'una e mezza abbiamo fatto il servizio e adesso ci buttiamo a fare una passeggiata sempre dopo che sono passati tutti perché sono scese dieci macchine quindi potete immaginare siamo neanche a metà strada un po' Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok ragazzi allora come vi dicevo vedete quattro passi del bosco e guardate il mini porcino sempre perfezione ma in miniatura. Ok vediamo se c'è qualche altro fratello dopo pranzo siamo venuti a fare una passeggiata. Vediamo un po' ciao a dopo. Vedi Maria tu mi hai chiamato ero su quella strada e da sotto e da sotto ho visto questo. Vedi chi è nascosto in mezzo all'erba guarda che bello. Vedi e poi qua c'è lui quello proprio che si vuole trovare. Guarda che bello Maria questo dai te lo dedico questo fungo rotondo a bomba è dedicato a Maria Mazzariol di Treviso. Ok guardate che bomba bombetta. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Perfetto. vedete lì fresco fresco questo è più bella bello 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 fresco così non ce l'ho lasciato un bel rouge un bel rouge questo sì che bello un bel rouge un bel rouge Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.